Buongiorno, buon risveglio a tutti. Questa mattina voglio parlarvi dell'olio essenziale doTERRA White Grape Fruit o pompermo bianco che io ho messo questa mattina nella mia tisana che è ottimo sia il suo sapore che la sua proprietà di aiutare nel risveglio, di alzare l'umore a livello emotivo, è molto utile per imparare ad accettarsi, soprattutto ad accettare il proprio corpo, la propria manifestazione, ciò che portiamo all'esterno, quindi è un olio che ci aiuta a riconcigliarsi con noi stessi, ad accettare tutte quelle cose di noi che difficilmente riusciamo ad accettare, quindi è un olio che ci sostiene, che ci incoraggia, che ci accompagna verso il proprio senso di benessere e di accettazione. Ne basta una goccia dentro una tisana, dentro un frullato, dentro all'acqua, dentro a qualsiasi cosa vogliamo bere la mattina, io personalmente la riprendo durante la giornata, per esempio quando bevo una tisana a metà mattina o quando mi faccio un frullato per merenda, ne metto una o due gocce, massimo tre, non ne mettete mai più di tre alla volta, renderà le vostre bevande più buone, più saporite e per esempio a me piace anche mettere due gocce in una bottiglia d'acqua di vetro, la bottiglia, proprio per aiutarmi a bere di più durante la giornata perché la rende più gustosa. A livello fisico è utilissima, scusate, v'ho dimenticato, a livello motivo è molto utile anche per contrastare la fame e la stress, quella voglia di smangiocchiare continuamente, questo bisogno di mangiare come ansiolitico, quando ci viene da smangiocchiare magari per l'agitazione, per lo stress e questo aiuta molto, questo olio essenziale aiuta molto a contrastare questa tendenza, infatti è molto utilizzato anche nei disturbi alimentari come bulimia, anoressia, perché aiuta proprio a compensare questa parte interiore. È un olio che aiuta a velocizzare il metabolismo, a mantenerlo sano ed equilibrato, è un olio che aiuta a ridurre i liquidi in eccesso, quindi persone che hanno problemi di cellulite, si può anche spalmare direttamente sui cuscinetti di grasso, oppure una goccia o due proprio sul punto dove c'è il cuscinetto più ostinato, oppure diluito in olio vettore e spalmato sulle gambe, perché è anche utilissimo come decongestionante delle gambe. È molto buono anche aggiunto alla nostra crema notte per il viso, nel caso di pelle grassa, ne basta una goccia mischiata alla crema e metterla ogni sera prima di andare a letto sul viso. L'olio essenziale di Grapefruit di Pompermo ha molte altre funzioni, se volete saperle potete scrivermi qui nei commenti, potete visitare la mia pagina Facebook dove metto il posto sugli oli essenziali e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Grazie, buona giornata.